Ha sicuramente dato un esempio importante, più che insegnato in quel momento, perché se avesse insegnato a questo punto le denunce dovrebbero essere molto di più. Come sappiamo bene le prime associazioni sono nate molti anni dopo, quindi la consolazione è che a tanti anni di distanza molti imprenditori sanno che possono denunciare e sanno soprattutto che non corrono gli stessi rischi che ha corso mio padre. Molti continuano a pagare il pizzo, le denunce sono poche in proporzione al fenomeno.